Debutto amaro per il Pistoia Basket nel campionato 2018-2019 di Lega Basket Serie A all'Adriatic Arena di Pesaro. Alla fine l'ha spuntata la Victoria Libertas per 83-77 nei confronti di una Oriora che è stata in partita, è stata in controllo della partita per larghi tratti della gara soprattutto nei primi tre quarti dove ha giocato meglio e ha contenuto meglio le bocche di fuoco avversarie siamo arrivati al 35esimo poi sul punto a punto sul 63-64 per Pistoia e lì un po' si è spenta la luce e diverse situazioni non hanno premiato Coccia Ramagli e i suoi ragazzi alla fine è arrivata una sconfitta che brucia, brucia perché contro una diretta concorrente per la salvezza e brucia soprattutto perché Pistoia appunto per larghi tratti della sfida aveva fatto credere di poterla vincere e in effetti così sarebbe stato però sono state fatali le 15 palle perse e soprattutto anche i tanti rimbalzi concessi agli avversari alla fine il conto dice 39-33 per i padroni di casa ma nell'ultimo decisivo quarto il parziale 13-5 per Pesaro quindi potete capire quanto questo dato possa aver influito così come un altro dato che ha sicuramente influito è quello dei tiri liberi Pistoia tirato con il 56% percentuali che sicuramente hanno messo un grosso mattone a favore di Pesaro per conquistare i primi due punti della stagione Pesaro